We have got the power Bella ragazzi, qui è Elle e noi siamo tornati su Evelyn E qua a fianco c'è Francesco, il nostro amico che però non vuole fare i video Troppo mezzo incoglionito Siamo tornati su Evelyn, anzi sono più on di i miei occhiali Quindi vado avanti senza, ok, interattiva Siamo ritornati a questo punto, non mi ricordo se era appunto lui però Mi sono fatto il c***o per riuscire, non mi ricordo fino a qua Ah, ho capito, cadi, cadi Dai, olivo Ok, non mi ricordo che fu, assomiglia c'è tanto tempo Che da, bene poco, non ci tocco Cazzo, i giochi mi sono scendati a destra Ok, non mi ricordo, non mi ricordo Ok, non mi ricordo, no, no Ok, morta Tan, tan, ok Oh no No, c'era un muro, figlio Dai che ce lo dobbiamo fare a superare questo schifo di 20 Ok, piano Si, fatto Light puzzle Ai Ai Pago Merde E' un'altra cosa Una morte Non ce la fa, ovviamente Dai Scusate Ok, abbiamo ucciso anche i maghi una roba abbastanza semplice però i più cristalli non possono uccidermi in questi modi ok, cosa c'è, cosa c'è ok, chiave, solta ok, non liate un certo ok, non liate un certo ok, non liate un certo ok, siamo arrivati, non salvato a Giornal ok, andiamo dove si va ho un brutto presentimento stai attento a te io ve l'ho fatto un po' in città ok, mi ricordo che l'ho già fatto questa parte e mi ricordo un po' di più ok, prendi il cuore, bene, andiamo no, più fuori ok, non liate un po' di più ok, ce l'abbiamo soltata a Giornal per allontare questa minchia e che no, dobbiamo rifarlo spero di andare almeno avanti un po' perché siamo all'inizio del top in pratica vedi, siamo riusciti ad arrivare al punto 3D cazzo io e la mia troppa autostima ok, dai incredibile con una mano con una mano, ce la va, ce la va con un solito un mito di vita qua, intanto, cosa c'è? no, no, no eh questo segreto che mi ha un peccato cosa c'è con me? una carta? vai vai no, no vai mi dobbiamo ancora dire poco no, vai fatto ah, ah, ah fuga, fuga, fuga fuga fuga, 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 fuga 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 Ci dobbiamo un po' di nemici Un po' Un po' Un po' Un po' Ai Ai Si ma per il non cuore io E lo fai erdo No No ai Una roba Ma è una roba grande eh Riuscire ai punti Si È la venta No Perché non ho uno scudo? No Ma che figlia di puttana Taglio il punto E eccoci qua Sono riuscito a uccidere tutti quelli E eccoci qua Sono riuscito a uccidere tutti gli amici Dopo Avrei preso anche una chiave Che sarebbe la boss Dove c'era Un cart- Come c'era? Un cartello di vento 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 Non diciamo niente Non cessarmi E' un cartello di vento Non dipende Voda Qua Ma poi Niccolò Un cartello di vento Non si darà a Kyoto A cosa sta venendo? No, Dark. Dark Kling. Non puoi! Passare! Ha fatto la patata! Mi ricordo davanti che è stato messo, non ci devo. Fuori! Aiuto, che ca facciamo chi dare una auto card. No, no. Lo sapecio come una autore suona che si chiama Kling. Perché? No, io posso cambiare. Quindi deve fare il mio avviso, ok? E' arrivata in vita! E' come un'nissima sentire! Oh, è l'arc! Non c'è un'immo, non c'è un'immo! E' l'arc, per che deve dare, perché è un'immo un'amma! Non c'è un'immo un'amma a un'esercito! Non c'è un'amma! Non c'è un'immo un'immo! Cosa c'è un dato? No 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 Claude Ma stai a dove? Perché sei qua? Claude Ti rubano le armi Ok 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 Ah 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 Ehm, la sicuro da starting a valore, non mi riesce a far accadere proprio poiché l'aiuto in tempo. ...Ici vedo, e l'equipe non mi ricordo che il lago ovviamente. ...Sì...Sì...Sì...Sì. ...Un po' ricordate che le musicie stendono. Ok. l'agricolo il nome della fu la fu la fu il secco di città il secco di città il secco di città il secco di città i polis sono arrivati in port l'agricolo 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 ragazzi non mi dico cosa ho appena visto però lasciaci muore io una che cazzo ma tu perdi il pomeriggio guardando queste cose dai a uno di vita vediamo lo stigli qua bello suicida suicida buono siamo aumentati di livello e io voglio uno scifo no quanto figlio di puttana sono sti mostri di politica mi è morta la tipa yeee e io no non ho oggetti quindi è finita qua la nostra avventura eduardi carl no anche miss da dove mi fa arrivare da dove mi fa arrivare oh ragazzi dobbiamo arrivare a quello schifo di villaggio come a vecchi tempi misturiamo la il tasto spazio in obbligo si toglie usare il presente non è uno zubat dai 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 ce lo devo riuscire grazie si ricordo poco cumulici min công ti credo una grafica un po' come quella omis un po' come Laogai Village Sono tornato, spero che tutti stiano bene Spero che il villaggio Non sia Stato qualcosa Potete decistarlo, servirà a salvarlo E noi saliamo E ci vediamo in un prossimo video Perché sta già diventando troppo lungo Se il video vi è piaciuto mettetevi piace Iscrivetevi un commento, iscrivetevi alla pagina di Facebook e di Youtube Che trovate sempre in descrizione E noi ci vediamo al prossimo video Ciao